Il brand di lusso di Gardagna Orchidea Versace Home si presenta a questa edizione del Cersaie con le sue interpretazioni raffinate dei materiali sempre nel segno del Total Look. È Palace Living Gold la collezione che più di tutte testimonia l'evoluzione estetica di Versace Home e quest'anno si arricchisce di nuove decorazioni, texture e formati. Si tratta di lastre perfettamente rettificate, accostabili senza soluzione di continuità ed ideali per gli ambienti più grandi. Ancora maggiore libertà quindi per vestire la casa e ricreare quell'inconfondibile decor tra contemporaneo e influenze classiche. Oltre alla finitura lappata la collezione si arricchisce anche di questa finitura tridimensionale ottenuta grazie ad una delicata levigatura in cresta. Superfici protagoniste dunque da arricchire ed alternare a numerosissimi pezzi speciali della linea dai mosaici ai decori geometrici, dal maxi rosone agli inserti in metallo ed anche in cristalli svaroschi. Ma Palace Living Gold va oltre nel definire la doppia anima del lusso contemporaneo che è la base di Versace Home e accanto alle tonalità naturali per atmosfere senza tempo punta su tinte black and white, la palette giusta per ricreare ambienti optical dall'impronta minimal chic. A completare il progetto Versace Home la linea Venere ha rivestimento particolare perché coniuga il classico all'avanguardia tecnologica. Sempre nel segno del total look anche il progetto Venere conta di molti pezzi esclusivi realizzati coniugando le lavorazioni manuali di esperti artigiani con processi produttivi più innovativi. L'unicità di ogni singolo elemento ottenuta grazie alla stampa digitale ad alta definizione, le venature tridimensionali che attraversano la superficie come un tessuto damascato e un'eccezionale brillantezza sono il tratto distintivo di questa eclettica collezione. Decori lievi e raffinati curati in ogni minimo dettaglio. La medusa, simbolo della maison, è illuminata da una foglia d'oro 24 carati. La greca compone invece un motivo infinito e pregiato. Ed infine Vanitas, un progetto ceramico dal grande effetto scenografico capace di rendere unico ogni ambiente domestico. Un'interpretazione creativa di grafismi e pattern grafici completati con l'inserimento di tasselli in oro che creano esaltanti giochi di luce con riflessi variabili e dinamici delle superfici.